Ieri. Sì caro. Vi siete visti anche l'altro ieri? Sì ti dico. Non è vero. Infatti l'altro ieri io sono stato al caffè greco dall'una alle due e non c'eravate. Dove vi nascondete? Perché menti Manuela? No, non mento. Ma dove ci dovremmo nascondere? Mi stai facendo confondere. Ieri l'altro non ci siamo visti. Oddio che tormento. Questa vita è diventata un inferno. No, scusami ho mal di testa. Mi sembra di impazzire. Allora, gliel'hai detto? No, quello mi uccide. Oh, non ne posso più. Andiamo via. Senti, andiamo via. Andiamo via, partiamo, andiamo all'estero. Io e te soli scompariamo. Io ti voglio tutta, capisci? Tutta per me. Se non mi uccide, si uccide. Allora continuiamo così. Due ore con me, il resto del tuo tempo con lui. Ma non te la prendere con me. Io cerco, studio come fare. Dammi tempo. Presto, presto devi fare. Presto, presto. Se non ci vado io dal tuo Danigli, sbatto la verità in faccia. Provaci e finisce tutto. Grazie.